Un'odissea esplosiva in un arido mondo post-apocalittico. È questo ciò che sembra proporre Sandland, nuovo action RPG con cui Bandai Namco fruga ancora nell'archivio dei manga pubblicati da Shonen Jump, trasformando in pixel e modelli 3D l'immaginario creato da Akira Toriyama. Durante la Summer Game Fest di Los Angeles noi abbiamo avuto l'opportunità di provarlo e di fare anche quattro chiacchiere con gli sviluppatori. Per contestualizzare le ambizioni del nuovo progetto di Bandai Namco è però necessario prima rispolverare le pagine dell'originale Sandland. Scritta e disegnata da Akira Toriyama, l'opera si distingue dalle più famose creature dell'autore di Dragon Ball e Dr. Slump per una narrazione immersa nella totale desolazione. La storia è infatti ambientata in una versione della Terra devastata da catastrofi ambientali, dove l'acqua è ridotta a una preziosa rarità. La trama si concentra attorno a un improbabile trio. Un uomo, un principe demone e un coraggioso ex militare che si avventurano alla ricerca di una mitica sorgente d'acqua nella speranza di rigenerare il loro mondo inaridito. La sua trasposizione videoludica fa parte di un piano più ampio per rilanciare un manga che nel 2000 non ebbe grande risonanza, anche per via delle sue ambizioni limitate. La storia del fumetto era infatti leggera e circoscritta, uno dei vari racconti autoconclusivi che Toriyama aveva realizzato per staccare dai tanti progetti crossmediali legati all'infinito universo di Dragon Ball. E oltre al videogioco, nella suddetta operazione di rilancio, è inoltre previsto un lungometraggio animato in CGI che uscirà in Giappone nel mese di agosto. Per non perdervi quindi nessuna notizia su tutto quello che bolle in pentola riguardo l'opera di Akira Toriyama, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche. Sviluppato da Ilka, lo studio responsabile di One Piece Odyssey, il titolo ripercorrerà l'intera storia del manga originale, con qualche aggiunta inedita utile per arricchire quello che altrimenti sarebbe un action RPG piuttosto povero di contenuti. Spazio quindi a nuove missioni principali e secondari e dialoghi coi personaggi, creature da combattere e veicoli da guidare. Stando alle parole degli sviluppatori, concentrandosi sulla sua storia, sarà possibile arrivare ai titoli di coda in 30-40 ore, una quantità comunque destinata a salire se il giocatore deciderà di cercare tutti i segreti e di dedicarsi alle missioni secondarie. Per tutto il viaggio verso la fonte leggendaria sarà possibile controllare unicamente il protagonista Bilzebub, principe dei demoni dall'aspetto malefico ma dal cuore d'oro. Nei momenti in cui sarà possibile girovagare a piedi il gioco si presenta come il più classico degli RPG. Si visitano villaggi in cerca di risorse, negozi in cui fare shopping e personaggi da cui ottenere incarichi secondari. Il resto del tempo lo impiegheremo invece a combattere dinosauri, banditi e altre creature che popolano il deserto. E anche qui il menu è quello già collaudato, con un attacco leggero, uno pesante e la possibilità di agganciare la telecamera su un nemico e di schivare i colpi con una rotolata. C'è un semplice sistema di combinazioni e caricando un indicatore si può attivare un colpo speciale più potente. Le meccaniche fanno il loro dovere, insomma, ma la speranza è che nel corso dell'avventura il combattimento corpo a corpo possa diventare un po' più dinamico e variegato. In linea con il manga, la seconda anima dell'esperienza è invece alla guida dei veicoli. L'importante però è non affezionarsi troppo a nessuno di questi, perché capiterà di cambiarli spesso. La demo è infatti iniziata con il trio di protagonisti alla guida di un piccolo fuoristrada, ma dopo essere sopravvissuto all'inseguimento con un drago delle sabbie, il gruppo ha dovuto cambiare veicolo. Sconfitto un gruppo di banditi, Beelzebub ha infatti potuto rubare il loro tank, un goffo carro armato che è anche il mezzo più iconico del manga. Alla guida del corazzato è possibile spostarsi più rapidamente, girare attorno ai nemici e prenderli a colpi di cannone o di mitragliatrice. Il tank dispone anche di colpi infiniti, ma i tempi di ricarica rischiano di lasciare scoperti per diversi secondi, quindi bisognerà stare attenti ad alternare le due armi. Gli sviluppatori non hanno voluto concedere troppe anticipazioni sui veicoli che saranno presenti nel gioco, ma promettono una buona varietà, con diverse aggiunte e mezzi anche fuori di testa. Resta da vedere se i diversi veicoli saranno caratterizzati abbastanza da spingere il giocatore a provarli tutti, mentre è lecito aspettarsi scontri con boss che richiederanno di alternare momenti a piedi e sequenze alla guida. Probabilmente non sarà né il sistema di combattimento né l'esplorazione del mondo a distinguere Sandland nel panorama dei tie-in basati sui manga. Per quello ci penseranno l'umorismo leggero tipico di Toriyama e il caratteristico stile dei personaggi, che secondo il team di sviluppo è stato anche uno degli elementi più difficili su cui lavorare. Per lo studio, infatti, trasformare i disegni di Toriyama in modelli 3D è stata una grande sfida, ma ha rappresentato anche la parte più divertente della lavorazione, perché guidata dalla volontà di ottenere un risultato assolutamente fedele all'originale. Speriamo quindi di poter constatare presto la bontà del lavoro del team con la versione finale del gioco, purtroppo ancora senza una data di uscita, ma prevista su PC e console di ultima generazione. Secondo voi Sandland può davvero dire la sua nel mercato dei giochi di ruolo d'azione? Ma soprattutto conoscevate già il manga da cui è tratto? Diteci la vostra nei commenti, mentre qui a fianco trovate dei video che potrebbero interessarvi. Alla prossima!